Partire in vacanza con il proprio telefonino costerà meno caro da questa estate. Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento sul roaming che entrerà in vigore dal 1 luglio. Per la prima volta si introdurrà un costo omogeneo anche per l'invio dei dati che attualmente fanno lievitare le bollette degli smartphone. Ci sono tagli importanti, per esempio per la trasmissione dei dati attualmente i cittadini pagano dai 3 ai 2 euro per download e alla fine nel 2014 arriveremo a pagare solo 20 centesimi per megabyte. È veramente un buon risparmio. Se infatti attualmente gli operatori sono liberi di applicare le loro tariffe sul traffico di dati, dal luglio costerà al massimo 70 centesimi al megabyte in tutta Europa. Chiamare in roaming costerà al massimo 29 centesimi al minuto contro i 35 attuali. Le tariffe continueranno a scendere progressivamente per i prossimi due anni. È una riforma volta a stimolare la concorrenza tra i quattro operatori che si dividono l'80% del mercato. Per rompere questo oligopolio il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di fissare una tariffa unica per i cellulari. Se entro il 2016 non si osserva un'effettiva competizione tra le varie compagnie telefoniche che dominano il mercato.